Buon Natale, taglie! Signori, anche se non è Natale, ma se ti piace il Natale che incombe, iscriviti e lascia like, taglie! Signori, Epic Games l'ha gasata tantissimo! Su Fortnite mi hanno regalato la Porsche 911, la nuova, e che fai, non la provi su Rocket League? Pollicione in su, solo per questo nuovo video su Rocket, se arrivate a mille like ve ne porto un altro, quindi sta a voi! Ogni mille like esce un video nuovo, perché io devo sapere se vi piace! E a proposito di mille like, signori, nello scorso video siete arrivati a mille like, quindi andiamo nel negozio oggetti! Mettiamo il support code EZZJOZZY e ragazzi, siccome mantengo le promesse, andiamo sul DLC di Batman e lo shoppiamo tutto! Perché vi avevo detto che se arrivavate a mille like, shoppavo l'intero DLC, quindi l'intero bundle, aspettatevi 4 video, scrivetemi sotto nei commenti quale delle 4 macchine propare per primo! Quindi andiamo qua su Batmobile, acquista bundle, tutto dentro acquistato, sì, tutto pieno, tutto pieno, tutto ripieno ragazzi, poco da dire! Mi raccomando scrivete sotto nei commenti qual è la macchina che volete, che io provi per primo, non l'ho mai provata perché abbandonai il gioco prima che uscissero, quindi questa qua secondo me è veramente una hit! Avete l'ultimo giorno per shopparle, mi raccomando, se ce l'avete scrivetemi su IG che magari facciamo duo con questa macchina, vediamo un po'! Ma adesso ragazzi arriviamo alla 911 che è appena uscita signori, è appena uscita me l'hanno data gratis, quindi grazie Rocket per questa hit! Più che Rocket, Epic Games! E adesso andiamo subito in allenamento a provare questa macchinina e vedere com'è! Allora, presuppongo che sia una hit perché questa qua è tipo una Jäger con tanto detettuccio come la Fennec! Andiamo a vedere subito le hitbox, io l'ho provata su Fortnite e mamma mia, già su Fortnite l'ha gasata! Il dietro quasi perfetto ma tanto del dietro, a meno che non facciamo qualche flicchettino pazzo, non dovrebbe dare noia! La punta me l'aspettavo un po' diversa, cioè però alla fine a quanto pare quelli di Fortnite piace proprio la punta tutta che si infila dentro! Ma va bene lo stesso ragazzi, direi che può andare... Ma to' tettuccio perfetto! Nooo! Questo non me l'aspettavo, tettuccio perfetto regà! E secondo me questa ha hitbox ibride! Non ne voglio essere, diciamo, non me lo voglio dire ma secondo me questa qua è hitbox ibride! Vediamo, vediamo subito in game regà! Voglio veramente provarla, sono veramente curioso, andiamo in 1v1, abbiamo gli XP doppi, interessante signori, interessante perché mi servono veramente gli XP perché ancora non ho finito il pass! Regà, tettuccio perfetto, punta, vabbè che si mantiene come sempre e adesso andiamo a vedere un po' i nemici che ci troviamo! Intanto, pollicione in su, siamo contro il Burki77, un saluto! Io qui feci il gol più assurdo della mia vita ragazzi, il gol più assurdo... Eeeeee! Ma come si infila sta palla! Ma come si infila sta cucciolina! Mamma mia come si infila sta cucciolina sotto quella palla! Porca miseria, lo manda subito a casa! Neanche a far così però, cucciolo! Cioè, ma perché a me guittano? Cioè, io ho capito che magari tu, che ne so, sei triste, magari che te posso dire? Ti è andata male la giornata e uno ti fa speed kickoff, bam, dentro e quindi tilti! Però, cioè, com'è possibile che in tutti i video del giozista la gente abbandona subito? Signore, ci siamo! Abbiamo trovato un nuovo avversario, vediamo un po' che cosa succede! Attenzione, siamo contro le flow! Le flow! Bello! Bella sta mappettina, tutto in mezzo al bosco! Mi vado a infrattare! Andiamo! Speed kickoff di nuovo! L'avversario ce lo countera, non è uscito proprio perfetto! Però diciamo che è andato abbastanza bene, signori! Allora, devo dire che... No! Mamma mia! Non mi aspettavo questo push! Sinceramente parlando, non mi aspettavo questo push! E infatti godo, godo! Così impari a pushare, brutto porco! Eh, non mi aspettavo questo push perché stavo dicendo... Stavo dicendo, mamma mia, sta macchina comunque la decolla è veramente bella! E non mi aspettavo una decolla così! Che fa? La para? Ma va! Regà, se vi posso dare un consiglio, non, non fate mai questa cosa che rimanete in porta! Lo so, magari può essere bello o roba del genere, però è veramente difficile parare, soprattutto se uno ti fa tipo qualche kickoff strano! L'avversario vuole fare un po' di chilling! Vediamo che vuole fare! Eh! Nooo, volevo fare tipo... Mamma mia, comunque, ragazzi, la decolla di sta macchina è bellissima! Non so se ci avete fatto caso, ma la decolla di questa macchina l'hanno fatto... Questo me la mette? Questa me la mette, regà! Che voleva fare? Oddio! Non me l'aspettavo! GG, bel gol! Meno male che è un bidone! È ammissato, signori! Meno male! Non me l'aspettavo quella cosa, perché ho detto questo, ma me fa o qualche pinche strano, oppure qualche cosa diversa! Invece no, ragazzi! È andato dritto per dritto per la tua strada, masch che nada, vabbè! Comunque, regà, ho sempre lo stesso problema! Quando gioco a Rocket, ragazzi, il... Uuuuuh! Merda! Come si chiama quella parata là, ragazzi? Mi ricordo quella parata che... Che io la volevo... Lo squishy sempre! Eh! Eh, cucciolo! Il trick del gonzi! Il trick del gonzi è sempre quello! È sempre quello, signori! Poco da dire! Poco da dire! Vediamo in volo se ci fa fare qualche volaceo! Vediamo se... Se ci fa... Facciamo un record di... Eh, record di kill! Record di... Ormai sto tutto nella mentalità del Fortnite, ragazzi! Vedi, questo tiro qua, ragazzi! Ma che tiro è? È bellissimo! Devo imparare a farlo, ragazzi! Ma che tiro è? È stupendo! Mamma mia! È tipo un tiro lento, ma davvero bello, ragazzi! Vediamo se gli faccio qualche flick! Merda, raga! I flick del... Oh! Me l'ha riparato! Bravo! I flick del gonzi sono rimasti solidi, ragazzi! I fake del giozista! Vediamo che vuole fare! Vediamo un po'! Eh! Eh, ragazzi! Purtroppo il... Come tanto anni fa... Gli abbiamo fatto sempre il marameo, ragazzi! Il marameo è sempre una hit! Guarda là! Eee! Eh, sì! Alla fine, ragazzi! Il marameo è sempre bello! Secondo me questo sta trollando, raga! Secondo me questo qua ci fa fare l'inizio e poi diventa addio! Vediamo! Intanto speed kickoff, ragazzi! Per vincere tutte le partite! Però adesso non gli facciamo il gol, gli facciamo un altro fake! È dentro! Eh! Un fake dentro, signori! Poco da dire! Comunque, nonostante l'MMR sia rimasto... Ragazzi, qua volevo fare tipo... Io pensavo lui mi pushasse! Invece no, non ma... Siamo 6 a 0, ragazzi! 6 a 0! Devo iniziare a fare ranked, raga! Se sto video arriva a 2000 like, iniziamo a fare ranked, ragazzi! Che facciamo? Gliela mettiamo? No, si è entrata da sola! È entrata da sola, ragazzi! Ma record di... Record di... No, non me lo dire che facciamo record di gol! Chi si ricorda? Vabbè, questo me l'ha appoggiata! Non ho idea, ragazzi! Chi si ricorda il record di gol del giozista, ragazzi? Questo rimane in porta! Io me la porto via! Proviamo qualche... Però da sinistra io non so fare gli air dribble! Voi da che lato vi trovate? Destra o sinistra, ragazzi? Vediamo un po'... Eh, signori! È veramente bella come macchina! Porca miseria se è bella! Mamma mia, ragazzi! Bella, bella! La palla questa qua è la seconda volta che rimane proprio attaccata! Cioè, per esempio, tu fai quello che devi fare e ti rimane proprio attaccata! A differenza della Fennec che magari la senti pesante! Questa qua... Te rimane proprio nei sentimenti, raga! Adesso la riproviamo! Dai, non me rompe la fava! Eh! No, comunque, raga... Oh! No! Ma io volevo fare un'altra roba! Brutto maiale! Non segna! Eh! Voleva, eh! Voleva il cucciolino! Gliela mettiamo? Gliela mettiamo? Dai, gliela mettiamo! Ciao! Un bacione dove vuoi tu! Questa la dedico al primo che si iscrive in questo momento! Ti sto vedendo, eh! Ti sto vedendo! Siamo 8-0, raga! Partita... Lo lasciamo vincere? Non so se farlo vincere, ragazzi! Non lo so, alla fine lui non sta tryhardando, credo! Lui sta facendo... Cioè, spero! Anche perché credo che... Di avere l'MMR... Non ho più Backe's Mode! L'ho tolto, raga! Perché Backe's Mode mi metteva... Tipo... Non so se sapete che cos'è... No! Comunque, ragazzi, questa... Questa macchina... Questa macchina è una hit, ragazzi! Cioè, ve lo giuro, questa macchina... Porca miseria, sei una hit! Mamma mia! Lo sapete che mi ricorda? La Jäger! La Jäger, quella con la quale ho iniziato a fare i premier dribble! Mamma mia! Questa la proverei quasi in 2v2, visto che in solo, insomma... Vabbè, qua ce la stiamo un po' ce la vediamo da dietro se riusciamo a partire... No, non sono partito troppo tardi... Comunque, questa mi ricorda tanto la Jäger, ragazzi! Però fatta meglio, perché la Jäger ha un tettuccio davvero buio e brutto proprio! No, questa si attacca proprio! Guarda là! Ma guarda là come va! Mamma mia! Si attacca proprio alla palla, raga! Allora, se volete un consiglio, scioppate sta macchina per imparare... Se non sapete fare gli air dribble, scioppate sta macchina, raga! Che, ve lo giuro... Ve lo giuro... Io mi ho perso un po' la mano, perché ovviamente Rocket è un gioco che ci devi stare dietro! Perché se no, perdi la mano! Però, ragazzi, vi posso assicurare che è una hit! È veramente una hit! Mamma mia! Gli speed kick-off, come vedete, li vincete tutti quanti! Cioè, questa macchina, ragazzi, mi piace davvero tanto! Mamma mia! Allora, se arrivate a 2000 like... No, che ho sbagliato! Però l'ho parata lo stesso! Cioè, l'ho parata, ma lui va dentro! Ehm... Invece no! Allora, se arrivate a 2000 like, raga! Ve porto... Ve porto ranked con sta macchinina! Perché tanto... Tanto, ragazzi, c'è, si destreggia... Si destreggia abbastanza bene! Eh! No, mi ha fatto dentro, raga! Vabbè, stiamo un po'... Qua ce la stiamo un po' chillando! Perché ho visto che l'avversario non è che giocava per vincere! Giocava più per trickare! Quindi, io preferisco le partite così! Perché tanto alla fine... Cioè, perché devi tryhardare in normal? Io pure sto provando la macchina! Quindi, sti cavoli... Cioè... Eh! Eh! Mi ha canterato l'air dribble, ragazzi! No! Brutto maiale! Davvero un brutto maiale, ragazzi! Ciao! Ciao! Tena sul tettuccio! No, la volevo tenere sul tettuccio! GG, comunque voto 10 a questa macchina, raga! Questa è la prima volta che do 10 a una macchina! Porca miseria, ragazzi! Questa è la prima volta che do 10 a una macchina! Stupenda! Stupenda, raga! Davvero, davvero bella! Non mettere in pausa premi e gioca? Cosa vuol dire? Ma io direi che abbiamo già giocato! Veramente bella come macchina, ragazzi! Davvero, davvero... Davvero, davvero bella come macchina! Porca miseria! Non me l'aspettavo che... Tipo... Allora, su Fortnite è bella! Ma su Rocket è 10 volte meglio! Vediamo un po'... Tra l'altro dovrei approfittare anche per giocare! Quindi sbrigatevi a mettere like perché sono livello 9, come vedete sono livello bassissimo! Però, in compenso, per 13 giorni, visto che finisce la season, abbiamo il 2 per TheExp! Quindi, io direi che per questo video è tutto! Mi raccomando! Pollicione in su se ancora non l'avete fatto! Iscrivetevi e lasciate like! E se arrivate a 2000 like, vi porto le Ranked In Solo, che ancora non le ho iniziate! Eccole qua! Prove evidente, Ranked In Solo! E poi, vabbè, ovviamente vi porto i 4 video a 1000 like! Con le varie Batmobili! Riali! Grazie!